La famiglia, di origini sar del padre, mentre la madre toscana, gestiva un bar a Genova. Marisa durante l'adolescenza sogna l'attività di cantante lirica, frequentando anche una scuola di canto presso il Teatro Carlo Felice di Genova. Ma ben presto decide di dedicarsi alla musica leggera e nel 1960 si trasferisce a Milano. La famiglia, accompagnata dalla madre, il debutto nel mondo dello spettacolo, però, avviene come attrice. Viene infatti notata da Mario Monicelli, che la fa debuttare come protagonista nell'episodio Renzo e Luciana. All'interno del film Boccaccio 70, segmento filmico riguardante la tormentata storia d'amore di due giovani impiegati di una grande azienda, contrastati nel loro amore dalle convenzioni sociali dell'era del boom economico, in seguito alla morte del cantautore. La Solinas dichiarò che la morte di Tenko era stata causata anche da alcuni debiti da lui. Contratti per pagare una tangente di 6 milioni agli organizzatori del Festival di Sanremo. In seguito a queste affermazioni la Solinas venne denunciata nella primavera del 1967 dalla società organizzatrice, e sostenne anche di aver ricevuto minacce verso il figlio David se non avesse rettificato le dichiarazioni. In seguito interpreta film di genere musicarello, Come riderà, cuore matto, insieme a Little Tony, tratto dalla sua canzone omonima, e B-movie ma anche pellicole di qualità nell'ambito della commedia all'italiana. Viaggio di nozze all'italiana, del 1966, l'arbitro, del 1974, tutti dentro e i due carabinieri, del 1984, solo nel 1964 riesce a debuttare come cantante con Devi imparare, canzone di cui viene anche realizzato un filmato diffuso nel circuito dei Cinebox, ma in questa attività avrà indubbiamente minor fortuna. Ha interpretato e inciso per la voce del padrone, la CDB ed altre etichette minori canzoni come solista o accanto ad altri cantanti e attori, come Andrea Giordana, particolare scalpore fecero la sua interpretazione del brano Lestasi una chiara emulazione di J.E. Taime, moi non plus, di cui riecheggia anche la melodia. Con forti richiami all'erotismo scritto da Elvio Monti e Armando Stulà, che divenne poi il marito di sua sorella Vittoria. E cantato insieme a Giordana e amo sentirvi. Inciso insieme alla sorella e a Stulà. In copertina i tre appaiono nudi a mezzo busto. Negli anni settanta un'altra canzone trasgressiva da lei incisa fu Vai su ora vai. Brano il cui testo racconta di una suora in preda a fantasie erotiche sulla cui copertina del 45. Giri la solina si fa ritrarre e vestita da monaca ma in posa sexy. Nel 1973 posa nuda per Gina Lollo Brigida. Che la sceglie come modella per il suo libro di fotografie Italia Mia. Negli anni novanta ha ricoperto cariche di rilievo all'interno dell'Imaie. L'associazione che tutela gli artisti dello spettacolo. Nel 2009 ha pubblicato un album, intitolato Venere Fenice e Retrospettiva, in cui sono racchiuse alcune sue incisioni del passato e qualche inedito. Tra cui un medley di varie canzoni. Smilè di Charlie Chaplin, Cabaret, Amado Mio ed altre, eseguite con l'accompagnamento al pianoforte del maestro Elvio Monti. Nel 1981 si cimenta anche nel teatro. Interpretando la parte della sordida madre nel Pellicano di Augusta Strindberg, diretto dal maestro Lorenzo Cicero. Lo spettacolo fu realizzato in collaborazione con l'ambasciata di Svezia a Roma. Nella parte della figlia recitava Liliana Eritrei. Anche la sorella Mara Vittoria è stata attrice. Come Vittoria Solinas, è cantante, con il nome d'arte Maria Sole.